Fitto il calendario d'eventi, in programma l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per i prossimi mesi a partire dal 25 maggio con 4 ore di Imola Endurance e poi la sfida del cuore il 2 e 3 giugno, manifestazione organizzata dal Comune in occasione della giornata nazionale dello sport del CONI. Che momento è questo per il circuito emolese che proviene da una serie di annate non facili? Ma intanto è un momento molto positivo, l'autodromo ha ripreso a funzionare molto bene, abbiamo ospitato grandi eventi mondiali di superbike con presenze molto consistenti, è uno degli autodromi più importanti del mondo, ospiteremo anche grandi concerti in luglio, per cui è una struttura che assume sempre di più una valenza turistica, un punto di richiamo, di attrazione, per di più oltre agli eventi che stanno funzionando le ricadute per il sistema alberghiero, dei servizi sono molto positivi e molto buoni, Il nostro è uno dei territori che ha il più alto tasso di crescita dei flussi turistici della provincia di Bologna. Novità per quanto riguarda il calendario degli eventi? Si sta lavorando, come ho detto prima, anche per realizzare eventi musicali, in luglio ci sarà una rassegna di grandi concerti, Negrita, Ben Harper, quindi grandi gruppi, che rappresenteranno anche qui un'occasione per portare i giovani in quella struttura, è una struttura che per noi è un elemento fondamentale di integrazione, di vita, di luoghi di incontro al sicuro, e credo che questo sia uno dei punti fondamentali perché non è comune oggi disporre di queste piattaforme logistiche in grado di ospitare centinaia di migliaia di persone senza produrre problemi di accessibilità, di traffico e di danni alla città, per cui pensiamo che ci sia un grande futuro e sarà anche un mese di luglio particolarmente intenso, sia per gli aspetti musicali che per gli aspetti automobilistici e motoristici. Poi ci saranno anche nuovi eventi che chiaramente rappresenteranno un ulteriore elemento per valorizzare sul piano motoristico e automobilistico uno degli anelli più importanti del mondo.